Martedì 21 dicembre, San Pietro Canisio. È il 355esimo giorno, dall'inizio dell'anno ne mancano 10 al termine. Il sole sorge alle 7.47 e tramonta alle 16.30. La luna si leva alle 18.23 e tramonta alle 9.49. Durante la notte parte da Veneta una spedizione comandata da Vettor Pisani e dal doge Andrea Contarini, trainando a rimorchio tre carcasse di navi. All'alba arrivano nei pressi di Chioggia, le carcasse vengono affondate nei punti stabiliti e tutte le uscite della città vengono chiuse. I genovesi e la loro flotta sono prigionieri. Le previsioni per domani. Su zone montane e pedemontane cielo in prevalenza sereno, salvo residui e nubi basse al primo mattino e ingresso di nubi alte nel corso del pomeriggio. In pianura iniziali estese nubi basse con probabile attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata, con comparse di schiarite a partire dai settori centro-settentrionali. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo con valori prossimi o inferiori a zero sulle zone interne della pianura, massime in aumento sui settori centro-settentrionali, stazionarie o in locale diminuzione altrove. Grazie per la visione.